Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi porto un video con un doppio squad builder. Vediamo prima una squadra da un milione di crediti e poi una squadra da due milioni di crediti. Diciamo che come riferimento io ho sempre quelli che sono i prezzi di play, perché so che comunque la maggioranza di voi è su play. Però vi vado a proporre anche delle alternative, chiaramente, nel caso in cui voi foste di Xbox. Visto che comunque ormai è passato quasi un mese e mezzo all'uscita del gioco, quasi due, e i crediti che sono nelle nostre tasche sono aumentati, quindi giusto riproporre qualche squad bidder un po' più gustoso. Quindi, rapido cambio di scena e ci andiamo immediatamente a immergere nella prima squadra, quella da un milione. Vi vado già a spoilerare che si tratterà in entrambi i casi di due Premier League. E perché la Premier League? Perché a mio avviso è la squadra più completa per quello che è questo budget. Poi è chiaro, si può anche cercare magari di andare a ibridare un qualcosa, eccetera eccetera, ma secondo me, vista la completezza che abbiamo nel campionato inglese, si può tranquillamente puntare a fare una cosa di questo tipo. E poi, ovviamente, la Premier è anche facilmente migliorabile, appunto, magari si toglie un reparto difensivo mettendo un bar a Mendy, eccetera, e si aprono mille sbocchi. Quindi, partiamo con la squadra da un milione. E per rimanere bassi di budget, io vado a inserire il buon Nick Pope. E voi mi direte, ma che sei impazzito, assolutamente no, questo, con quel sorriso sorgnone, para che è un dannato, para anche più di Allison o di Ederson o di Yoris, eccetera, eccetera. E' tanta roba, secondo me. E addirittura tanti pro lo utilizzeranno anche nelle qualifiche, perché sapete che ci sono le restrizioni, infatti poi vi porterò quelle che sono le mie idee di squadra competitiva e vi chiederò anche un aiuto. Quindi Pope Importa per me fa il suo lavoro e abbiamo speso praticamente nulla. Per quanto riguarda il ruolo di terzino destro, in Premier League abbiamo un'abbondanza veramente disarmante di terzini destri, ma per me il più forte in assoluto è il buon Semedo. C'è chi preferisce Cancelo, c'è chi preferisce Van Bissaga, c'è chi preferisce Walker, io preferisco lui. Mi ci trovo da Dio, lo utilizzo anche nella mia squadra e secondo me anche in questa squadra va a lavorare bene, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Di fatti fa il suo. Addirittura questa WL, il 27 che ho fatto, è arrivato con un suo epico gol dopo una cavalcata di 50 metri. Per quanto riguarda invece il reparto dei due difensori centrali, il primo che andiamo a piazzare è Joe Gomez, l'intramontabile. Tra l'altro appena letto che forse si è fatto male in nazionale, quindi spiazze per lui. Ma per 100k questo non solo vi dico li vale tutti, ma è anche uno per me dei difensori oro più forti del gioco. In una classifica io vi piazzo Virgil, Varane e poi lui, con la versione IF di questo Joe Gomez, che per me si piazza anche sopra Varane, quindi tanta roba questo Joe Gomez, è fitta perfettamente all'interno di questo team. A completare il reparto difensivo io ci vado a piazzare il buon Ake. Che voi mi direte, ma come Ake? Eh regà, questo qua che con sta foto aggiornata tra l'altro in game pare Gullit, il suo lo fa. È veramente una bella carta, io l'ho testata anche, mi ci sono trovato bene in inizio gioco. Quindi devo dire che insieme a Joe Gomez è una coppia che dà fisicità e anche qualità, perché tutti e due quei passaggi non se la cavano manco malissimo per essere dei difensori centrali. Mentre per quanto riguarda il reparto, il reparto invece difensivo, andiamo a chiudere questa squadra con Van Anolt, nella sua versione Rule Breaker, che al momento è il miglior terzino di Premier League. Secondo me veramente tanta roba, completo sia per quanto riguarda fase offensiva che difensiva, per 190.000 crediti non c'è di meglio. Per quanto riguarda invece reparto un po' più avanzato, quindi passiamo al centrocampo, il primo giocatore che secondo me non può mancare in una squadra da un milione di crediti di questo tipo è il buon Pogba. Pogba che tanto mi strattato dai più, io l'ho utilizzato in lungo e in largo, mi ci trovo da Dio, il mediano lo fa bene perché poi è anche erabile ad impostare, si fa sentire anche in fase difensiva, Pogba ovviamente va selezionato come vanno selezionati tutti i mediani per difendere, ma l'ho trovato veramente tanta tanta roba e per 200.000 crediti secondo me è un affarone. Non cadete nella tentazione Rule Breaker perché quello è una pippa, costa troppo straipato, non ne vale mai la pena. A completare questa mediana molto solida andiamo a piazzare il buon Sissoko. Sissoko lo conoscete sicuramente ormai tutti, il Vieira con la carta gialla praticamente, che fitta perfettamente con Pogba perché Pogba è un giocatore un po' più completo, magari un pelo più offensivo che difensivo, Sissoko è un full defense che completa il reparto alla perfezione. Per quanto riguarda invece il reparto offensivo avanzato, il primo giocatore che andiamo a inserire è il buon Marcus Rashford, anche lui ormai stranoto quest'anno, tanta roba perché è rapido, tanta roba perché ha 5 di skill, tanta roba perché ha comunque 4 piede debole che male non fa, quindi Rashford giocatore totale può fare sia all'esterno che la punta. Giocatore invece sulla fascia opposta che ho deciso di utilizzare in questa squadra è il sempreverde Lucas e lo preferisco ad Adama Traorei chiaramente perché ha 4 piede debole, lo preferisco anche a un Maximen a 7 perché comunque Lucas a 10 fa il suo anche per rimanere un po' più contenuti con i prezzi e a completare diciamo questa zona mediana dell'attacco prima di passare alla punta andiamo ad utilizzare il buon Martial, anche lui 4 di skill, 3 di piede debole che comunque quest'anno non si sente tantissimo, per quello che costa è perfetto e inoltre ci dà la possibilità di affarciarci all'attacco e di andare a inserire il nostro Ben Yedder. Ben Yedder che a inizio anno era una carta che era sparita un po' dai radar e di conseguenza ce ne eravamo un po' dimenticati ma dopo la patch con il gioco che è diventato più lento e basato un po' di più su possesso palla, passaggini, movimentini in area di rigore per me può dire la sua ed è veramente tanta tanta roba. E credo che con un milione di crediti questa squadra sia veramente OP, ci si può giocare con il 4-4-2 utilizzando Ben Yedder e Rashford da punta e Lucas e Martial sull'esterno e ci si può giocare tranquillamente anche con il 4-2-3-1 andato ad utilizzare Ben Yedder da punta, Martial C e C e Rashford e Lucas esterni oppure anche Rashford C e C volendo perché comunque i passaggi li ha. Come vedete su Xbox sta squadra viene un 200k in meno, a quel punto magari si può pensare di andare a sostituire Sissoko, si va a mettere Kanté che per poco in più insomma c'è una differenza di un 100k ma tra un milione e un milione e cento c'è poco visto che sappiamo che ci sono i premi con i quali se la si va a cavare. Quindi per quanto riguarda la squadra da un milione di crediti io andrei ad operare in questo senso. Per quanto riguarda invece la squadra da due milioni di crediti io direi di lasciare come base più o meno questa qui. Quindi andrei solamente a risparmiare sul buon Reguillon in maniera tale che appunto abbiamo i 280k di Van Anolt che è possibile andare a investire in maniera più avanzata. Andiamo anche a togliere il buon Rashford e il buon Martial e il buon Bey Yedder. In questo caso anche su play andiamo a utilizzare Pogba Kanté. Qui andiamo a utilizzare Mané. Veramente giocatore, raga, devastante. Io l'ho trovato uno scambiabile per fortuna, lo sto facendo giocare addirittura a 7 di intesa. Da qua cavalca che è una meraviglia. Quando arriva sotto porta alle volte non finalizza bene i tiri a incrociare che sono fondamentali soprattutto se giocate col 4-4-2, col 4-2-3-1 perché spesso si trova in quella posizione per finalizzare così e spesso e volentieri tira o centrale o si dimentica di prendere la porta. Però veramente tanta roba il buon Mané. Poi andiamo a completare sempre questa zona mediana, sempre con il buon Martial e poi, raga, andiamo a fare un all-in per quanto riguarda il ruolo di punta incredibile andando a stuccare Rashford If. Viene praticamente 2.058.000, quindi 2.000.000 e siamo veramente gucci con sta squadra, raga. Anche qua 4-4-2, 4-2-3-1, sto Rashford è il giocatore finale. Veramente tanta, tanta, tanta roba. E abbiamo poi ulteriore margine perché come vedete su Xbox abbiamo 1.067.000 quindi volendo si può anche pensare di andare a togliere il buon Naché e fare l'upgrade definitivo a questa difesa andando a piazzare Virgil van Dijk per una squadra a 2.000.000 per me completa in tutto e per tutto. Poi, come vi dicevo, io preferisco sempre squadre di questo tipo perché poi sono facilmente migliorabili, no? Si può pensare poi di andare a togliere Gomez e Reguillon e trasformare questa squadra anche magari in un'ibrida andando ad inserire in futuro, non so, Varane al posto di Gomez. Chiaramente Mendy da quest'altro lato. Quando iniziamo ad accumulare crediti pesanti, qui magari ci andiamo a mettere Neymar qui magari ci andiamo a mettere Mbappé al posto di Martial e insomma io credo che veramente abbiamo la possibilità avendo una Premier di poter fare fondamentalmente quello che ci pare quindi motivo questo per il quale ho deciso di proporvi questi due squad builder partendo sempre dalla Premier perché la squadra A più completa B più facilmente migliorabile una volta che possiamo permetterci anche i big boys. Quindi raga, niente, per questo doppio squad builder è tutto spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando like e commento che sono cose da youtuber che mi servono iscrivetevi al canale che stiamo crescendo bene io vi aspetto ogni giorno in live sulla piattaforma vi ho la link in descrizione e nulla raga, non mi resta che salutarvi fate bravi, ciao ciao